Nuovo attacco, nuovax via Facebook in Toscana che stavolta ha preso di mira Toscana Media News e le testate locali Queen News. Le cui pagine ieri sono state invase da centinaia di commenti contro le vaccinazioni e anche contro i giornalisti con frasi a sostegno di atti vandalici come quelli registrati in queste ultime settimane nei confronti di alcune emittenti tv locali. A renderlo noto il Consiglio regionale della Toscana, il cui presidente Antonio Mazzeo è stato più volte oggetto di analoghi episodi. L'ultimo in ordine di tempo ieri. Da Mazzeo dunque ferma, condanna a nome di tutta l'Assemblea regionale. Questi atti inqualificabili che vorrebbero essere intimidatori contro professionisti e contro tutte le persone che con responsabilità e senso civico si sono sottoposti alla vaccinazione, sottolinea, non intimoriscono e certo non fermeranno il lavoro di Toscana Media News e Queen News. Mazzeo esprime piena solidarietà ai tanti giornalisti che sono stati colpiti da offese e commenti deliranti, ma continuano a stare in prima linea per informare cittadine e cittadini. Sulla vicenda è tornato oggi il presidente della regione Gianni che afferma «Chi pensa di vincere con la violenza ha già perso e noi, i non violenti, siamo una moltitudine. Solidarietà ai giornalisti che fanno il loro dovere con libertà e coscienza». Parole di solidarietà arrivano anche dal capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale toscano Francesco Torselli. «Ogni forma di violenza verbale e fisica deve essere condannata fermamente», dice. «Ci auguriamo che le autorità identifichino quanto prima gli autori di queste intimidazioni». «Ogni forma di violenza verbale e fisica deve essere condannata fermamente».